ciao a tutti oggi vediamo questo coltello a serramanico specifico per la raccolta dei funghi è un coltello prodotto artigianalmente a premana dalla ditta codega vediamo che sul dorso della lama c'è una dentatura che serve proprio per pulire il fungo durante la raccolta la lama è molto affilata e il manico in legno legno di faggio o carpino e setole molto tenere per andare a pulire il dorso e il cappello del fungo si tratta di un coltello molto comodo da tenere in tasca o appendere con il gancetto nella parte posteriore del manico c'è un righellino anche per misurare il fungo che si trova le setole sono molto tenere quindi non vanno a rovinare il fungo è un prodotto completamente artigianale fatto da questa azienda codega di premana che dal 1920 produce coltelli qui vediamo che il manico è proprio in faggio carpino e la lama è in acciaio al carbonio i coltelli della ditta codega sono conosciuti anche a livello di collezionismo qui ci sono le spiegazioni come utilizzare il coltello durante la raccolta del fungo rivediamo la lama con la dentatura nella parte superiore specifica proprio per andare a togliere il fango la terra sulla parte bassa del fungo la lama filatissima curva permette di staccare il fungo dal terreno senza rovinarlo sono prodotti di alta qualità che trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com oltre ai coltelli codega ne trovate tanti altri venite a trovarci e continuate a seguirci su elettronica didattica il canale youtube ciao a tutti alla prossima